Domenica il Vole Soverato affronta la trasferta di Caserta, attualmente fanalino di coda del campionato dopo la sconfitta subita al tiebreak in casa con Ravenna. Un'occasione subito di pronto riscatto per il Vole Soverato, coach Barbieri che deve subito riprendere la marcia nelle posizioni alte della classifica. Sì, non siamo preoccupati perché abbiamo fatto per 3-7 e mezzo la miglior pallavolo che abbiamo espresso finora, perciò non siamo preoccupati per noi. Siamo preoccupati perché andiamo a Caserta, incontriamo una squadra che ha fame di punti, l'abbiamo studiata le due partite con il nuovo sestetto e devo dire che Achieri ha fatto un grosso passo avanti, hanno fatto 3-1, perciò è una squadra che da quando ha cambiato parte del sestetto si è rinnovata e ha trovato una sua identità, perciò sappiamo che comunque dobbiamo andare là e cercare di fare punti. Ecco, probabilmente forse in questo momento una squadra come Caserta è ancora più difficile da affrontare perché è meno decifrabile rispetto all'inizio, perché come diceva lei metà sestetto diverso, allenatore nuovo da un paio di giornate, quindi di conseguenza ci sono dei cambiamenti in corso anche da parte di quella squadra, quindi anche per voi la fase di studio è diversa rispetto a quella che poteva essere qualche settimana fa? È giustissimo, di solito studiamo sulle 4-5 partite, qua ne abbiamo solo due, ma le ho viste anche in una squadra carica, ci sono queste giovani che sono entrate e devo dire che hanno dato soprattutto una carica psicologica alla squadra. È vero, poi sotto l'aspetto, parliamo sempre di psicologia, per noi magari diventa un po' più difficile perché sono quelle partite che sembrerebbe, guardando la classifica, che tu devi vincere per forza. Siccome hai 10 punti in più, 15 punti in più, ma in realtà non è così, l'abbiamo visto con Olbia dove abbiamo veramente sofferto, perciò questo l'abbiamo capito, ma già lo sapevamo perché su quello le ragazze, devo dire, che non hanno mai sottovalutato nessuna, è qualcosa che ci serve per ora, per il futuro, ma questo devo dire che abbiamo una bellissima mentalità per quello. Alice Pizzasego, la domenica si va in trasferta a Caserta per riscattare questa sconfitta interna subita al try break con Ravenna, comunque un soverato che si è dimostrato anche domenica una squadra viva più che mai e che sicuramente può ancora migliorare. Esatto, peccato appunto per domenica contro Ravenna, avevamo trovato un buon gioco, avevamo trovato un buon ritmo, quindi appunto questa sconfitta un po' è amara, ma stiamo pensando, abbiamo la testa a domenica a Caserta, sicuramente andremo lì per conquistare questi tre punti e sono sicura che ritrovando il gioco appunto che avevamo contro Ravenna andrà sicuramente bene. Ecco, una squadra che ha cambiato allenatore da poco, ha cambiato alcune giocatrici, la classifica potrebbe indurre a pensare facile, nel senso che essendo l'attuale fanalino di coda del campionato la partita potrebbe sembrare sulla carta facile. Sappiamo che questo campionato ha già dimostrato che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Esatto, questo campionato è un campionato molto competitivo, quindi sicuramente non bisogna guardare alla classifica, perché appunto anche squadre magari che sono adesso di bassa classifica possono risultare molto insidiose, soprattutto dietro con muri difesa, quindi saremo sicuramente pronti a trovare una squadra all'altezza delle aspettative e affronteremo come se fosse un'altra gara. Un terzo di campionato se n'è andato, facciamo un primo bilancio di questa stagione sin qui tuo e anche del volle soverato, se era come te lo aspettavi, visto che comunque le ambizioni di inizio stagione erano quelle di fare un campionato diverso, ce lo state disputando in realtà. Esatto, è la mia prima esperienza appunto in Italia e anche nel campionato di Serie 2, quindi essere seconda appunto dalla prima è sicuramente un traguardo importante. Grazie.